Mercoledì 11 ottobre, benvenuti alla segna stampa di Teleambiente, qui dai nostri studi dove ogni mattina vi raccontiamo l'umore, le notizie, le sensazioni e anche le prospettive che la stampa italiana ci narra sulle prime pagine dei giornali. Ieri ci eravamo lasciati con la grande attesa della Catalogna, vediamo cosa è successo, approfondiamo anzi quello che è accaduto con le prime pagine che possono partire. La stampa, ecco il titolo che riassume la vicenda, indipendenza ha detto ieri Carles Puigdemont che è il presidente della Generalitat della regione autonoma di Catalogna, sì all'indipendenza abbiamo il diritto di dichiararla, ma parliamone, dialoghiamo, cerchiamo di capire come questo può avvenire senza farci male. Ed ecco quindi il titolo della stampa che molto bene riassume, Puigdemont dichiara la secessione, ma raccoglie il primo ministro spagnolo, Madrid risponde immediatamente no, è un ricatto, Madrid si trincera sul discorso di principio che il referendum è anticostituzionale, quindi illegittimo, quindi tutto quello che ne consegue lo è. C'è un articolo diciamo editoriale di De Nicola, Alessandro De Nicola dice i movimenti populisti che stanno attraversando il mondo occidentale, quindi un taglio nettamente negativo su quello che sta a commento di quanto sta accadendo in Catalogna, le altre notizie che la stampa ci dà e che troveremo sulle altre pagine dei giornali sono essenzialmente lo scontro sulla fiducia posto sul Rosatellum alla Camera e al Senato, la Banca Etruria, cui la Banca d'Italia ha chiesto un risarcimento di 400 milioni per i danni causati. In alto poi vedete anche, si vede ma la vedete proprio in alto a sinistra, Ilva manca una politica industriale, ieri era stato uno dei temi della giornata, la sofferenza dei lavoratori Ilva alla contrapposizione, fa il governo ai nuovi proprietari che vorrebbero tagliare i salari, oggi questo argomento vi è eslitta, praticamente quasi si risolve, questo ci lascia pensare che il dialogo è iniziato e che forse ci saranno sviluppi positivi, la fotonodizia della stampa è sulla California che sta bruciando Napa Valley che è la regione, la Mecca dei grandi vini californiani e questo è una brutta notizia sull'ambiente che se ne va anche in California. Giriamo pagina, ce ne andiamo al Corriere della Sera, lo vedete, anche qui l'apertura tutta sulla Catalogna, indipendenza ma si tratta, tra virgolette non è una dichiarazione di intenti generale, è la richiesta di Puigdemont, quindi fra attenzione, quindi sì noi vogliamo l'indipendenza ma discutiamo, il che lascia pensare che ci sia anche una regia di dire no, se trattiamo, allunghiamo i tempi ed evitiamo scontri, conflitti evidenti che possono degenerare, ma come già vi ho detto, come ci diceva la stampa, la Spagna ha detto di no, il catenaccio è la Catalogna dichiara la secessione e poi la sospende, quindi vedete questo gioco di tempi e di tempistica, dichiara e sospendo, stop and go, Madrid inammissibile, categorica anche il Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera l'editoriale come Alessandro di Nicola, anche Ernesto Galli della Loggia, altro commentatore, penna prestigiosa del Corriere della Sera, il declino degli Stati europei, un titolo che dice già ci racconta, dopodiché vi dicevo la richiesta di 400 milioni di risarcimento d'anni che dovrebbero andare anche ai poveri che sono stati, i poveri correntisti massacrati da Banca Eduria che hanno visto buona parte se non tutti i risparmi in fumo, poi la fiducia sulla legge elettorale, patto Partito Democratico, Forza Italia e Lega ma il Movimento 5 Stelle insorge e poi vedremo nel dettaglio cosa è successo esattamente ieri e poi su questa vicenda del Movimento 5 Stelle insorge c'è anche il mattinale di Gramellini che ci racconta la piazzata di Dibba, Dibba reputo sia Dibba attista, uno dei deputati più importanti dal pensiero politico un po' debole in effetti perché incappa spesso in scivoloni clamorosi, ieri ne è incappato un altro perché ha sbagliato piazza, pensava ad andare dai suoi sostenitori, si è trovato in mezzo ai sostenitori invece di un'altra protesta dei Novax, ricordate del generale Pappalardo, massone, senatore dei socialdemocratici all'inizio degli anni 90 che adesso ha un suo movimento che scatena al momento opportuno, quindi non solo i scivoloni linguistici per il Dibba ma anche la scelta di piazza sbagliata. Una notizia viene aggiunta dal Corriere della Sera, anche Asia Argento attrice, figlia d'arte di Dario Argento, re dell'horror, denuncia Weinstein mi violentò nel avevo appena 21 anni. Continua questa lurida vicenda che ci arriva direttamente da Hollywood e che ci fa riflettere su quello che è ancora oggi la carriera dell'attore. Lasciamo il Corriere della Sera, ce ne andiamo al messaggero che credo è meglio di tutti gli altri, ci raffigura la situazione catalana, frenata della Catalogna, quindi frenata. Pic de Monte firma la dichiarazione di indipendenza ma la sospende, firma e sospende, quindi c'è un temporeggiamento, c'è qualcosa che ci ricorda i vecchi andazzi della politica italiana. Lo sospende per favorire il dialogo, dice, dura la risposta del governo di Madrid, ricatto inammissibile, non ci sarà mai la secessione. Quindi nonostante questo utilizzo retorico della dichiarazione, Madrid pare assolutamente disponibile a non cedere di un millimetro. c'è il reportage, qui lo vedete messo molto bene al raffronto speculare da parte del messaggero, vedete il reportage, Barcellona delusa, così ci tradisce perché ovviamente c'è anche un risvolto sull'elettorato che ha votato il referendum in quelle condizioni che dice stiamo qui, ci attendiamo alla dichiarazione di indipendenza e invece tu temporeggi. Quindi c'è un elettorato che fischia Puigdemont, c'è le contromosse di Racoy che preparerebbe lo Stato d'assedio, sapete cosa vuol dire? Togliere tutte le garanzie democratiche, sospendere la Costituzione in Catalogna, sospendere i diritti e quindi uno scontro durissimo che Racoy, il primo ministro, secondo il messaggero, starebbe per mettere in campo. Poi c'è la questione della fiducia elettorale, della legge sulla riforma elettorale tra barricade e franchi diratori. Domani voto finale segreto, ci sarà il voto finale segreto sulla fiducia, sapete cosa accade, quindi anche lì potrebbe accadere di tutto. L'analisi e la discussione ci dice che intorno a questa fiducia è scattato un asse tra Renzi e il Quirinale per il sì, quindi il Presidente della Repubblica Mattarella viene chiamato in campo, c'è in questa richiesta di fiducia, voluta, ci dice il messaggero da Renzi, poi posta dal governo e quindi da Gentiloni, la regia del Quirinale. Gentiloni, il primo ministro infatti dice così o serviva un decreto, quindi secondo Gentiloni per accelerare stanti tempi strettissimi serve un decreto. E anche questa è un'altra figura retorica, portare le cose all'estremo e poi scattare col decreto di fiducia che non fa mai piacere. Legge elettorale, ecco qui lasciamo il messaggero, lasciamo il messaggero, andiamocene alla Repubblica perché finalmente sulla Repubblica si apre su quello che è il tema, il secondo grande tema della giornata. Tenendo presente però, tenendo presente che la fotonotizia è su Catalogna Indipendente, ma trattiamo, quindi la fotonotizia è molto bella, la vedete a colori su Repubblica perché vedete Carles Puigdemont che praticamente sale da solo, solitario con una folla che lo attende, lo vedete di fotografia essenzialmente, solitario praticamente il Parlamento a Barcellona ed è davvero un uomo solo che sta prendendo decisioni storiche. Il punto, dicevamo ieri, è quando la politica si mette in condizioni per cui un evento storico o un fatto storico si lega indissolubilmente al destino personale di chi lo può decidere. Chi era prima di questa vicenda Puigdemont? Un illustre sconosciuto per il resto del mondo, forse lo conoscevano in Catalogna, sicuramente lo conoscevano in Catalogna, forse lo conoscevano in Spagna, non lo so, nel resto del mondo non lo conosceva nessuno, quindi è questo anche un altro elemento che dobbiamo tenere in considerazione. Repubblica ci porta sull'altra notizia, non ce n'era tante Repubbliche perché si dedica molto a questa fotonotizia, dice anche nell'analisi c'è un sentiero di negoziati segreti che sarebbe scattato, l'altra notizia è da Asia di Argento a Jolie, tutti i ricatti di Weinstein. Vedete questa vicenda è lurida, come vi ho detto, parla ancora di sessismo, parla ancora di violenza sulle donne, la cosa stravagante è che questa violenza, queste donne sono tutte donne famosissime e allora qui anche ci interreghiamo perché avete aspettato così tanto donne famosissime a denunciare questo storco, questo criminale che evidentemente esercitava il suo potere, addirittura se lo esercitava su di voi, figuriamoci su quante povere e disgraziate lo ha esercitato. Lasciamo la Repubblica e ce ne andiamo sul giornale che ci dice e ci parla essenzialmente della legge elettorale, avete visto abbiamo cambiato praticamente tema, nuovo golpetto di Napolitano, quindi il giornale di Sallusti, di Alessandro Sallusti, direttore, l'accolla tutta a Napolitano, a Giorgio Napolitano che pure è senatore della Repubblica, presidente merito, teoricamente dovrebbe viversi con serenità i suoi 90 anni e predotti e invece il giornale gliel'accolla a lui, il governo mette la fiducia a Re Giorgio Ricatta a sinistra e Mattarella, quindi addirittura il mandante di questa fiducia che è stata Renzi, messa da Gentiloni, ispirata da Mattarella addirittura avrebbe il mandante Giorgio Napolitano, è un'analisi da tenere presente, guerriglia in aula, guerriglia in aula, grillini fischiati in piazza, ma sapete che quei grillini fischiati in piazza sono il dibattista che ha sbagliato indirizzo, ha sbagliato indirizzo, anziché andare da una piazza, se n'è andata in un'altra. Un'altra notizia ci aggiunge il giornale, faccia a faccia con Battisti, non tornerò mai in Italia, dice Cesare Battisti, la cui storia potete seguirla anche su teleambiente.it, il nostro sito web che ce l'ha raccontata e ce la racconta in aggiornamento costante. L'altra notizia, questo è bello come titolo, Valzer alla Catalana, sapete che alla Catalana ci sono tutti, ci sono la crema alla Catalana, la paella alla Catalana, si aggiunge anche adesso il Valzer alla Catalana, secessione rinviata, chissà come andrà a finire. Manifesto, manifesto e chiudiamo questa vicenda, quasi chiudiamo questa vicenda, camicia di forza, ci dice il manifesto, camicia di forza, la camicia di forza viene data ai malati mentali che hanno dei problemi, non si devono muovere, sono i requieti, camicia di forza invece viene data secondo il manifesto con questa bella foto al Parlamento che come vedete ha tutti gli scranni vuoti, quindi camicia di forza, la fase zen di Matteo Renzi è finita, vi ricordate la fase zen di Matteo Renzi che non parla più? Ha ripreso a parlare dando gli ordini e secondo il manifesto mettendo la fiducia. Il leader del PD dimentica i precedenti disastri sulla riforma e strappa Gentiloni con la copertura di Martarella la fiducia per la nuova legge elettorale, la sinistra si ricompatta sul no e questa è una notizia, la sinistra si ricompatta sul no perché come sapete vocazione della sinistra è ricompattarsi quando sta all'opposizione, quando sta al governo generalmente si sfascia. Dopo sulla Catalogna vedete l'altro titolo, l'indipendenza sospesa, quindi geriamo vocialmente pagina e arriviamo a fascistellum del fatto quotidiano, vedete fascistellum, non rosatellum, il gioco di parole è evidente, legge elettorale Renzi ordina la fiducia, Gentiloni obbedisce, Mattarella tace, PD e Premier tradiscono i giuramenti sul governo neutrale, strozzano emendamenti e dibattiti in Parlamento, Travaglio cala la mannaia con governo illegittimo, avvelenato da una maggioranza fittizia e figlia di una legge elettorale incostituzionale, modifica la legge elettorale che peraltro non c'è perché è la legge elettorale che è nata sulle scene di un Italico che è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, quindi dobbiamo un po' ricordarci tutto di questo, questa maggioranza secondo il fatto quotidiano impone in maniera autoritaria, fascistellum per questo, è inutile che vi stia spiegare perché, una nuova legge elettorale bloccando il dialogo, il dibattito e imponendo la fiducia e imponendo il voto segreto. Su questa vicenda del fascistellum, della legge elettorale, credo sia giunto il momento di sentire qualche voce che ce la racconta direttamente dal Parlamento, credo che ci sia, se la regia mi assiste, il ragionatore Brunetta che ci racconta quello che sta succedendo secondo il punto di vista di Forza Italia in Parlamento. Brunetta. Noi non votiamo questa fiducia, ho detto che comprendiamo le ragioni per le quali il Partito Democratico e la maggioranza l'abbiano apposta, noi vogliamo che il Parlamento faccia una legge, questo è il Parlamento, il Parlamento deve fare le leggi, pensare di entrare in un ennesimo Vietnam con votazioni segrete, 80-90 votazioni segrete per portare a un nulla di fatto, sarebbe stata un esito assolutamente negativo e esiziale, per questa ragione capiamo, comprendiamo le ragioni della fiducia, ovviamente non parteciperemo al voto di fiducia, ma voteremo sì, come abbiamo votato sì in Commissione, al voto finale che comunque garantirà tutti, anche le opposizioni sulla democraticità del voto su questo provvedimento. Molto chiaro, molto chiaro Brunetta, la legge va bene, siamo contrari al voto di fiducia, perché poi in realtà Forza Italia ufficialmente sta all'opposizione a questo governo, quindi praticamente non voterà il voto di fiducia, immagino che uscirà dall'aula, non so cosa avverrà in Senato, perché lì il voto in uscita è un voto contrario, quindi vedremo come si comporteranno, comunque ufficialmente alla posizione di Forza Italia non votiamo il voto di fiducia, sì però alla legge perché è una legge sostanzialmente largamente condivisa, dice Brunetta e quindi è. Vedete anche che praticamente il fatto quotidiano ci dice anche che il no di 5 Stelle e Sinistra che oggi saranno in piazza a Roma, quindi sentiamoci adesso una voce che invece ci viene dall'opposizione, il deputato Fratoianni di Sinistra Italiana. L'ennesimo voto di fiducia sulla legge elettorale, la seconda volta che accade in questa legislatura è una vergogna, si usa la fiducia per impedire al Parlamento di discutere, è già successo e lo voglio ricordare agli italiani e alle italiane, con la fiducia si è approvata una legge incostituzionale, c'è stato anche impedito di discutere le pregiudiziali di costituzionalità e di fare persino la discussione generale, il Parlamento non può essere trattato in questo modo. Il Parlamento, dice Fratoianni, non può essere trattato in questo modo ed è indubbio che ogni volta che si mette e si impone la fiducia si fa uno strappo alla democrazia su questo in dubbio, ma nella mia non tanto breve vita vi garantisco che questa litania, lo strappo alla democrazia quando si impone la fiducia, l'ho sentita almeno un migliaio di volte, tutte le volte che lo fanno le maggioranze è uno strappo alla democrazia, poi le maggioranze come in democrazia si susseguono e le minoranze quando diventano maggioranze rimettono le fiducia nuovamente o impongono i decreti legge che è più o meno la stessa cosa. Il Fatto Quotidiano ci dà anche un'altra notizia che è flop che fa Fazio sulla Rai e questa è una notizia che c'è un riflettore da parte dei giornali su come va Fazio, perché ha avuto un emolumento, uno stipendio stellare e però se andate a vedere quella puntata che ho visto c'erano due personaggi, c'erano Fabio De Luigi e il ministro Franceschini che presentava un libro, quindi era veramente una puntata un po' debole, il libro di Franceschini è francamente tutto da non leggere. C'è la vignetta molto bella, sempre a chiusura del discorso sul quotidiano, sulla sinistra e vedete Pizzapia non si mangia, si immagina una pizza. Ecco, e quindi è un ulteriore schiaffo a Pizzapia e i suoi tentativi di unire la sinistra. Passiamo all'avvenire, passiamo all'avvenire che con più, diciamo, garbo, ci chiude la vicenda Catalogna, Catalogna sospesa, vedete una bella bandiera catalana, indipendenza non ora, proclamate solo parole, diceva l'avvenire, è bello questo, proclamate solo parole, questo discorso di Puigdemò che è durato 57 minuti di incredibili dissertazioni retoriche in cui ha detto tutto a tutti e contro tutti per poi dire abbiamo un diritto che non esercitiamo. Ci ha raccontato praticamente, se non fosse il dramma, ci ha raccontato una commedia dell'acqua calda il signor Carles Puigdemò. Chiude anche la vicenda che vi abbiamo raccontato elettorale l'avvenire, la chiude bene con il titolo perché dice ancora una fiducia, ecco vi dicevo prima di quante fiducia ho visto, ancora una fiducia e l'editoriale di Marco Tarquinio che ne è il direttore dell'avvenire, perché non basta, non la vado neanche a leggere perché il perché non basta è una concessiva, va bene ma non basta e quindi c'è il doppio binario, lasciamo l'avvenire, ce ne andiamo sul libro e qui scopriamo altre cose, altri titoli che dinamizzano la nostra rassegna stampa, ce la fanno diventare anche un po' più divertente. Quanti intellettuali italiani filano con i musulmani, questo è un occhiello quasi interrogativo, ecco gli amichetti dell'Islam, quindi Libero ha stilato una personale lista direi di proscrizione di quelle previste nella storia romana, ricordate le liste di proscrizione sillane di Silla, console, lungo elenco secondo il Libero di convertiti all'Islam, tra questi ci sarebbero, attenzione, Pisapino, Boldrini, Mogherini, Bonino, Lerne, Serra, Fini, Buttafuoco, quasi una formazione che potrebbe scendere in campo per una partita intellettuale Islam, tutti convinti che i fedeli di Allah siano buoni, quindi basta dire, attenzione, l'Islam non è tutta oisis, l'Islam non è tutta urla, proteste e assalti, c'è anche un Islam moderato, basta dire Islam moderato e finisci amichetto dell'Islam. Il Libero inizia la campagna elettorale sul referendum e ci porta una faccia abbastanza malata, abbastanza segnata di Umberto Bossi, ex leader della Lega che dice se non passa il referendum Lombardia e Veneto in malora e questo è un vecchio tema della Lega, non a caso il referendum viene chiesto da Lombardia e Zaia che sono la vecchia Lega, sono la vecchia Lega. Poi il libro ci dice legge elettorale sottoposta alla fiducia, ci dice i catalani rinviano, ci dà anche una notizia che potete trovare in approfondimento sul sito Teleambiente, la classifica sulla corruzione è una boiata. A Filippo Faccio, che è un altro che difficilmente gliene va bene una, ci dice che la classifica sulla corruzione presentata ieri in un report dall'autority da Cantone alla presenza del ministro Orlando è semplicemente una boiata. Noi ve l'abbiamo raccontata, la trovate su Teleambiente e vado oltre, passo al tempo, non solo Montecarlo ci dice il tempo, Montecarlo non è principato, sono le case di Fini, le ricordate quel tormentone che portò praticamente, contribuì alla rovina politica e dell'immagine dell'ex segretario di Allianza Nazionale Fini. Fini e Tugliani sono nei guai, indagini chiuse sull'ex leader di Forza Italia, reato, riciclaggio e quindi parrebbe un rinvio a giudizio. Poi ci ricorda Battisti, scusate, Cesare Battisti, rabbia italiana a Rio perché lui brinda e si fa vedere in foto a Mene dopo averla scampata ancora, poi ci dà il tempo una notizia di morti sospette a Capannelle, tre cavalli deciduti in gara, cosa sta accadendo e poi vedete ancora crollo degli ascolti Fazio che è sempre nel mirino dell'attenzione. Lasciamo il tempo, ce ne andiamo al sole 24 ore, sole 24 ore che oggi ci dice che Ilva più vicino, la vedete il taglio centrale ed è la notizia che tanto avevamo intuito visto che era scomparsa dai giornali, Ilva più vicino la ripresa del dialogo, quindi qualcosa di positivo sta accadendo. La fotonotizia di questi due giapponesi che si inchinano nel fatidico inchino giapponese, vedete con quella spalla che si flette a stelo di bambù praticamente, ma non si piega, è bellissimo l'inchino giapponese, che cosa ci dice? Che c'è anche nel puritanissimo Giappone uno scandalo delle false certificazioni, potreste pensare elettorali, personali, fiscali? No, ben più grave, false certificazioni che sta travolgendo la Kobe Steel che è un'azienda che vende in giro per il mondo prodotti di base per la costruzione di pannelli per esempio di alluminio, quindi è un'azienda che fornisce alluminio e rame che non sarebbero stati a norma e attenzione quel rame serve anche nella telecomunicazione oltre che negli scambi ferroviari e tutta quella vicenda lì sapete quanto il rame ambito e costoso nei pannelli alluminio di cui vengono fatti gli aerei, quindi pensate un po' che cosa gravissima e pericolosissima sta avvenendo e ci viene dal Giappone. Un'altra notizia che ci dà il sole 24 ore è Freda, Cosmesi italiana per Esther Loder, Freda è un imprenditore, un manager italiano che sta facendo la fortuna di Esther Loder, una delle grandi case e aziende dell'estetica. Abbiamo finito con la resegna stampa ordinaria, apriamo velocissimamente quella sportiva, l'avevamo promesso e lo facciamo velocemente, vedete Gazzetta dello Sport abbiamo scelto oggi, vi ricordo la prima pagina della Gazzetta dello Sport che questo fine settimana c'è il derby il derby d'Italia Milan-Inter, c'è questo derby che è un po' declassato onestamente e ce lo racconta attraverso l'intervista a Zanetti, capitano e manager adesso dell'Inter che dice se vinciamo decolliamo, mentre Montella attacca Berlusconi e questo è un segno dei tempi incredibile direi, Berlusconi ormai è fuori dal Milan e la sua influenza sul Milan viene messa in discussione da Vincenzino Montella che del Milan è l'allenatore, ma la cosa interessante è la griglia che potete intuire e leggere per l'Italia che è ai play-off di qualificazione per i mondiali di Russia, c'è anche un editoriale di Enrico Sacchi che dice il risultato ok ma non il gioco, quindi questo è tanto per rimanere in tema sulla sventura del povero Ventura che è l'allenatore molto bistrattato dell'Italia, così al sotteggio prima fascia Svizzera-Italia-Danimarca-Croazia, seconda fascia Svezia-Nord-Irlanda-Grecia-Irlanda, quindi se l'Italia ha due squadre un po' temibili Svezia e Irlanda, due meno Nord-Irlanda e Grecia, ma saranno play-off tosti perché sono quattro squadre che vendono carissima la loro pelle. C'è poi un articolo, vedete, a fondo vicino alla pubblicità a sinistra Federica Pellegrini tra i veleni, aperta un'inchiesta rischia una sanzione, una brutta storia di ripicche, di invidia, di accuse, di invettive che sono poi diventate invettive sessiste contro la Pellegrini, più che la fede al nuoto, Malagò, il CONI intervenisse perché è inammissibile quello che è successo intorno al nuoto, intorno a due campioni come Paltrinieri, il cui allenatore ha vinto il premio come miglior allenatore dell'anno e la Pellegrini che ha difeso invece il proprio allenatore, da qui è scattato l'incredibile, fa tweet, denunce e anche offese, semplicemente offese sessiste, veramente una brutta pagina, la fede al nuoto al solito in sabbia da tutto, Malagò, fai un po' di pulizia, grazie, qui abbiamo chiuso la rassegna stampa di questo mercoledì, ringrazio tutta la redazione, vi ricordo che potete rivedere questa rassegna stampa in stream su telambiente.it, scriveteci su Facebook, date i vostri consigli, i vostri giudizi, i vostri suggerimenti e le vostre critiche ovviamente, noi personalmente noi ci vediamo lunedì prossimo, ovviamente domani e dopo domani un grande conduttore vi aglieterà sulla rassegna stampa dei prossimi giorni e del fine settimana. A voi tutti, buona giornata, ci rivediamo lunedì. Grazie. 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 Grazie.